Hai approvato l'assestamento di bilancio, è soddisfatto il documento di finanza e quando andrà in aula? Molto, molto. Penso che uno dei risultati tecnici e finanziari di assestamento di bilancio migliori da quando governiamo. Quindi segno che lasceremo tra due anni a chi verrà dopo di noi un comune saldo anche nei conti. In Consiglio Comunale andiamo il 7 e l'8. Quindi contiamo tra mercoledì e giovedì di approvarlo con la nostra maggioranza e quindi siamo anche molto soddisfatti di questo. Stiamo lavorando in questa estate calda su tutti i fronti per creare condizioni migliori affinché il comune possa essere sempre più saldo e quindi più efficiente nel garantire ogni tipo di servizio.